Ed eccoci invece adesso a parlare di lavoro, sicurezza, salute dei lavoratori, se ne è discusso con i giovani, insieme ai giovani, ma non solo con esperti del settore all'Università Federico II di Napoli nell'ambito del Symposium HSE. Vediamo. Garantire la sicurezza dei lavoratori non è solo un obbligo giuridico, ma un dovere morale, civile, inderogabile. È questo uno dei passaggi dell'intervento che il Presidente della Camera Roberto Fico ha inviato agli organizzatori dell'HSE Symposium, che si è aperto oggi a Napoli, nell'Aula Magna di Biotecnologie dell'Università Federico II. I lavori del Symposium sono incentrati sui temi della salute, sicurezza sul lavoro e ambiente. L'iniziativa ideata è organizzata dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Università di Napoli Federico II, dall'Associazione Europea per la Prevenzione, con il supporto di INA e il Campania, di Ebilav con il Presidente Luigi Doriano e di Fondo Lavoro, di cui il Direttore è Carlo Parrinello. Lo Stato deve mettere in campo ingenti finanziamenti come, ad esempio, il credito d'imposto per le aziende che adempiano a tutti quelli che sono gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro. Lo chiediamo fortemente perché siamo convinti che solo dando oggettivamente un valore aggiunto alle imprese si riesce a diminuire con gli infortuni e le morti sul lavoro. L'elemento formazione e informazione è un elemento importante, in difetto del quale è difficile promuovere gli adempimenti di legge in materia di sicurezza e diffondere compiutamente nel Paese la cultura della sicurezza, che è l'unica che può ridurre il numero degli incidenti e ovviamente ridurre il numero delle morti bianche a cui purtroppo quotidianamente assistiamo. Nella prima giornata del simposio, in cui si sono confrontati su questi temi esponenti del governo, della magistratura, della Chiesa, delle istituzioni, degli organismi di tutela e controllo e anche dei rappresentanti dei lavoratori e dei loro datori di lavoro, sono intervenuti tra gli altri Andrea Costa, sottosegretario alla salute, e Alessandro Amitrano, segretario ufficio di presidenza della Camera dei Deputati. Alcuni interventi sono già stati previsti, come l'incremento di chi deve controllare sul territorio, interventi e incrementi di investimenti per quanto riguarda la formazione, nella consapevolezza che c'è bisogno anche di un approccio culturale diverso, c'è bisogno di consapevolezza da parte di tutti, non solo da parte dei datori di lavoro, nei confronti dei quali abbiamo irrigidito le sanzioni, ma anche dal punto di vista degli operatori e dei lavoratori, c'è bisogno di prendere coscienza di quanto sia importante la sicurezza sul lavoro, soprattutto per loro. Era da tempo che aspettavamo un intervento che andasse finalmente a implementare le normative sulla sicurezza sul lavoro, questo sicuramente è un primo intervento importante, bisogna andare a incidere ulteriormente sulla formazione del personale, soprattutto sulla cultura del lavoro, perché sono i veri elementi che ci permetteranno di non avere più morti sul lavoro.